Il quarto cappello non ce lo leva proprio nessuno! Eccomi, scusate il ritardo eh! Oh! Cosa dobbiamo fare? Niente! Non ne fa proprio niente! Ma proprio oggi! Oggi che sono in vena di creare con queste mani! Caro amore mio, io creo, creo! No, tu con queste mani non fai proprio niente, capite? Ma fatti furba no! Ma usa il mio tocco magico per favore e ti faccio una cosa fa... Ciò che sti mani mammo! In questa cucina oggi non devi toccare niente, hai capito? Le bacche, le bacche! Le bacche ci vogliono! Eccole qui! Devo arrangiare con quello che c'è! Devo arrangiare con quello che c'è! Basta così! Ecco! Ma il profumo non è il massimo! Ah no, beh! Saranno i piedi! Bisogna controllare il sale! Buonissimo! Buonissimo! Il primo non è il sapito non è salato! Fantastico! Ah!